Ciao a tutti, mi chiamo Roberta, io mi chiamo Silvia, siamo arrivate qui il 5 febbraio per studiare il russo, abbiamo studiato qui per tre mesi e infatti stiamo per andare via e ci dispiace tantissimo, la scuola è davvero bella, i professori sono molto qualificati e abbiamo anche deciso di dare il test tier che è ad in per prendere appunto la certificazione a livello B1 e devo dire che è stato molto utile prendere questo test qui perché vivere qui ci ha aiutato molto ad esercitarci con la lingua e a imparare nuove cose, per questo passare il test non è stato molto difficile, credo che in Italia avremmo trovato molte difficoltà abbiamo vissuto qui tre mesi quindi ci siamo adattati alla vita russa e niente, vivere qui è stato veramente bello, tutti sono stati gentili con noi e qualsiasi problema abbiamo avuto ci hanno sempre aiutato, ci hanno sempre aiutato, ci sono stati molto d'aiuto si 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 e niente, cosa dire? è stata una bella esperienza nel caso in cui decidesse di venire a San Pietroburgo e studiare presso il Diegiamo Institute venite perché davvero ne vale la pena priegiate, priegiate, paga!